e ti saluto, a presto, arrivederci a prestissimo allora c'è qui una persona che è la salvezza per molti uomini lo dico subito chiaramente, l'abbiamo già avuto ospite e qui ha portato oggi quello che contiene la protesi peniena, uno dei più grandi impiantologi direi del globo terraqueo, si può dire così, del globo sicuramente il più grande impiantologo italiano fa più di 300 protesi all'anno è una roba pazzesca, domani tra l'altro sarà protagonista, non dico in quale ospedale naturalmente per motivi di privacy di una operazione incredibile che qua, il mitologico Antonini, buonasera buonasera a tutti, grazie dell'invito tutto bene lei lo sa di essere la salvezza per molte persone lo so, lo so, ne è consapevole o no, ne è consapevole, io sono un bene dell'umanità, beh adesso non esagero dottor Gabriele Antonini non esageri non esagero mi permetto di dire che la salvezza di molte persone è l'Europa mi permetto di dire che c'entra l'Europa, qui stiamo parlando di cose un po' più prosaiche, il repisello l'uccello, come si drizza o non si drizza l'Europa è la salvezza di molte persone ma lui infatti è anche in Europa noi in che senso siamo primi in Europa? siamo primi per protesi peniene addirittura noi plurale majestatis noi italiani dici in Italia noi Antonini ah lei dici in Europa è quello che fa più protesi peniene questo è un piazzista di protesi per i peni ma è un piazzista di protesi del penne è un urologo è un medico fortemente specializzato in un settore importante della sessualità lei mi sta dicendo che in Italia primeggiamo abbiamo un record diciamo che la media è quella dei 500 impianti per ogni nazione io nel mio sono quello che effettua più impianti a livello nazionale e europeo europeo dunque lei è una specie di mago degli impianti diciamo la verità se uno dice ho bisogno di un impianto perché mi è successa una cosa grave qui parliamo poi di cose gravi se uno ha bisogno di un impianto è perché c'è una cosa grave perché c'è un tumore c'è un tumore oppure un incidente o qualsiasi altra cosa la maggior parte sono tumori ecco domani che cosa fa lei concretamente? domani leviamo un tumore della prostata che è una delle malattie in questo momento più diffuse Parenzo non si è mai fatto mettere il dito in culo e glielo mettiamo quando lo vediamo no ancora no perché stasera non lo vediamo però glielo mettiamo volentieri vedremo con grande piacere grazie professore e togliamo togliamo la prostata da un paziente questa è una cosa seria perché è affetto da malattia oncologica siccome è un paziente ma c'è un'alternativa un paziente giovane poi le chiedo questo c'è un'alternativa a quel tipo di per fare il test c'è un'alternativa all'uso del dito diciamo no il dito è qualcosa che ha una sensibilità maggiore anche di un attacco ho capito ecco lei quando mette a quanti uomini mette il dito dentro lei in media ma mediamente una ventina al giorno una ventina al giorno è come metterli dentro che ne so è come prendere il caffè è come prendere il caffè 20 per 6 giorni diciamo per 5 giorni lavorativi fa 100 anche sabbada e domenica questo lavoro mica 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 ma la cosa bella sono 400 al mese la cosa bella è quando il paziente il paziente mi dice no dottore ci sono 4.800 4.800 4.800 anche la stessa persona ogni tanto per cui un po' il paziente mi dice ma mica mi metterà il dito là e io gli dico guardi che a me non è che mi fa piacere anzi è da stamattina che sto a fare tutta sta trafila non è il massimo però è fondamentale non c'è nessun esame che può valere quanto la sensibilità di quel ditino che a un certo punto tocca la prostatina ci sono tanti esami però diciamo che l'esplorazione rettale rimane ancora una di quelle tra tanti laser forse pazzesche alla fine l'esplorazione rettale bella questa espressione l'esplorazione rettale a me non piace per niente a me non piace per niente mio zio era specializzato ogni volta che lo vedevo mio zio anche l'anima sua ogni volta che lo vedevo ti posso provare a mettere un dito che famiglia davanti a lui mi stava dicendo dell'operazione di domani mattina faremo un impianto contestuale di protesi peniena toglieremo il tumore con il sistema robotico e metteremo a un paziente giovane che già ha del deficit rettile quindi non funziona bene prima della prostatectomia metteremo contestualmente la protesi tutto insieme tutto nello stesso momento perché l'ha voluto lui naturalmente certo perché il paziente comunque arriva non vuole stare non si vuole arrendere ma 55 anni perché si deve arrendere no per carità ma lo vuole subito però lo vuole contestualmente non potrebbe concepire l'idea di non essere più abile questo è il punto assolutamente certo uno lo potrebbe fare anche dopo ma è come una donna una donna con un tumore al seno che fa la protesi poi me la mettete fra tre anni adesso rimango col seno senza così vuoto è lo stesso concetto il problema è che siamo limitati noi nel pensiero senta questa cosa qui che c'ha che sono le due pompette che si mettono dentro questi sono i due cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi e questa è la famosa puntata ma non sono troppo lunghi questi cilindri questo è un demo per far capire ognuno poi ha la misura sua appunto Lorenzo c'ha quella mini lei c'ha quella media io c'ho questa come si permette io la querelo però questo qua è la demo dunque io le porto via tutto quello che ha cioè tutte queste protesi praticamente allora guardi guadagna un sacco di soldi professore qua allora questi qua sono i due lo faccio vedere anche alla web i due cilindri che vanno dentro l'uccello assolutamente dentro i corpi cavernosi mi fai un'impressione pazzesca questi due cilindri cioè questi due cilindri vanno dentro la signora che è qui di fronte a noi che dopo intervisteremo magari non lo sa ma qualche volta ha incontrato nella sua esperienza magari delle persone col cilindro ma sicuramente ma no ma che ne sa lei col frac e col cilindro col frac e col cilindro torniamo tra un attimo perché voglio l'incontro tra due persone tra due mondi fermi tutti questi due cilindri vanno dentro i corpi cavernosi e poi e poi manca qualche cosa qui però quella pallina va dentro la borsa scrotale tra i due testicoli completamente invisibile il paziente la percepisce la tocca e azionando il bulo manda un liquido dentro i cilindri e il pene va in erezione molto semplice molto semplice è quello che lei farà domani prima la prostatectomia radicale e poi l'impianto della protesi fermi tutti Gabriele Antonini torna tra pochissimo insieme ad un'altra persona fermi una fa la maestra lui fa un'altra professione che hanno iniziato un'avventura nel mondo dello scambismo non c'è niente di strano si può raccontare oggi purtroppo vieni identificato come scambista e sembra che sei un mezzo criminale questo è il punto poi fondamentale no? questo è il punto fondamentale poi che non mi dici niente che nella tua televisione ieri la Meloni è andata a affrontare a petto all'infuori a petto all'infuori il signor Mentana dal dottor Mentana non c'è dove io l'ho fatto vedere ho mostrato pezzi dell'intervista durante la rechettina credo di aver svolto un ottimo servizio rimandando in lomba alcuni pezzi credo credo siamo qui con uno dei salvatori riproponendo al mio pubblico l'intervista magistrale magistrale adesso non esageriamo il direttore è uso termini alla porro come porro con Meloni intervista magistrale magistrale fatta questo è vero però fatta da Mentana come ottima è stata l'intervista a seguire di Lily Grubera Salvini per la prima volta giù 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 con questo lecchinaggio della sette ma abbiamo qui parliamo di cose più serie il modo in cui gli italiani possono salvarsi da tante cose che possono accadere al pene all'uccello al cazzo chiamatelo come volete io stesso ho avuto dei problemi non gravi che nel tempo ho saputo risolvere grazie all'urologia grazie agli urologi lo si dice perché gli urologi in fin dei conti sono degli psicologi sono delle persone che possono salvarvi la vita psicologica ma anche la vita cioè questa è la realtà io è vero che vengo dalla famiglia di urologi ma non ci guadagno nulla a essere così fissato con l'urologia tutti noi abbiamo un uccello e tutte le donne hanno a che fare con uomini che hanno l'uccello dunque è un bene dell'umanità chi si occupa di queste cose qui ci dovrebbe essere un urologo per ogni scuola io lo propongo da tempo alla società di urologia un urologo per ogni scuola perché può essere quello che ti spiega le cose come fare come non fare da un punto di vista proprio tecnico medico mi stava facendo vedere prima il professor Antonini questi cilindri questi cilindri e mi stava dicendo un'altra cosa importantissima che questa un po' esagerata secondo me questa cosa qua lui invece è molto convinto convintissimo del fatto che le protesi peniene possono me lo dica possono curare tutti quei pazienti che soffrono di eiaculazione precoce che non risponde a nessun trattamento farmacologico convenzionale tu stai dicendo scusami Gabriele diamoci tutto tu stai dicendo che se uno ha provato tutto ha provato tutto però soffre di eiaculazione precoce tu come la definisci l'eiaculazione precoce e non risponde ai farmaci l'eiaculazione precoce è codificata come un tempo eiaculatorio molto molto breve tipo? 5 secondi 5 secondi un minuto meno di un minuto è una cosa che tu non puoi governare assolutamente no ci sono delle eiaculazioni su base neurologica i pazienti addirittura prima di penetrare hanno un'eiaculazione come si dice me ne sono già venuto prima delle mutande me ne sono venuto prima come si cura sta cosa è terribile è una roba in caso in cui non ci siano cure di nessun tipo le terapie convenzionali farmaci circoncisioni cremi spragli anche la circoncisione può essere utile per diminuire la sensibilità esatto molto bene la circoncisione la circoncisione assolutamente perché lei è circonciso io non sono circonciso non la consiglio perché devo trovare uno buono che me la fa lei la consiglia però dopo c'è il filettino come me il filettino non ce l'ho più è ottima perché garantisce pulizia garantisce la circoncisione fatelo dire dal dottore una assoluta pulizia pulizia superiore rispetto a chi invece non è cabriolet cioè chi è cabriolet garantisce maggiore pulizia è stato dimostrato scientificamente nel mondo che chi è circonciso alla nascita per motivi etnici religiosi ha una possibilità di sviluppare il cancro del glande dello 0% non ci posso credere 0% eh sì 0% 0% mi ha sconvolto questa cosa qua c'è Parenzo che è circonciso non avrà mai il cancro del glande vabbè il cancro del glande è anche una cosa a meno che non va con qualcuna che magari gli passa qualcosa io non lo so ma come si permette ma come si permette ma mi permetto perché non stai qui Parenzo se no non mi permettevo però io sono felicemente siamo arrivati a un'altra cosa cioè l'eiaculazione precoce vabbè ma cosa c'entra l'eiaculazione precoce può essere curata con lei mi sta dicendo sta facendo però una grande propaganda agli impianti sta dicendo chi soffre di eiaculazione precoce e non può curire no io sono un visionario io l'ho visto ho visto questa cosa sono un visionario nel prossimo futuro questa sarà l'indicazione una delle indicazioni più importanti contro l'eiaculazione a fare un impianto di protesi per il trattamento dell'eiaculazione precoce non responsiva a nessuno ma uno può anche diventare a nessun farmo nel corso del tempo a uno può anche capitare l'eiaculazione cioè magari uno non ne soffriva prima improvvisamente può soffrire di eiaculazione precoce ma è difficile questo c'è un'eiaculazione precoce primitiva cioè che è sempre stata presente e poi ce n'è una secondaria di solito quella secondaria si sviluppa nel tempo perché ci sono dei fenomeni ansiogeni stress prostatiti tutta una serie di condizioni che poi possono essere curate ma chi ha una eiaculazione precoce su base neurologica che non risponde a nessun trattamento è un paziente è una persona che non affronta più il rapporto sessuale con una donna perché scappa ma non c'è dubbio scusi un attimo e dunque questa roba qui mettendo l'impianto chiaramente si elimina il problema perché allora allunga prende più confidenza più fiducia allunga i tempi eiaculatori ma a me non interessa che il paziente eiaculi prima o dopo la cosa importante è che il paziente possa avere l'erezione per tutto il tempo che necessita ma quindi diciamo l'eiaculazione in questo caso uno viene quando vuole non viene più no 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 come non viene più viene normale tutto è normale tutto fisiologico con l'impianto è tutto normale una donna con il seno a 18 anni a latta se c'ha un figlio sì ecco uguale la stessa cosa io ho capito ma qui non è che uno viene cioè eiacula certo che è eiacula si ha tolto la prostata per un tumore non esce lo sperma però c'è l'orgasmo c'è l'orgasmo assolutamente sì e i tempi sono dilatati i tempi sono soggettivi dipende poi dal rapporto che se uno soffriva di eiaculazione precoce evidentemente sicuramente prende più confidenza prende più sicurezza che dobbiamo fare musica musica allora abbiamo qui una signora che si chiama Natascha Kull o Kulks scusi Kull yes come Kull Kull Natascha Kull che ha 52 anni ora la cosa che mi sorprende lei è molto rifatta signora Kull no sbaglio labbra seno tutto si è rifatta tutto ma non c'è niente di male noi siamo a favore siamo a favore delle protesi penine siamo pure a favore delle protesi penine ma io non ho nessun problema a metterlo lei si è rifatta abbastanza sì perché anche io in questo caso toccando questo tasto del tumore sono due anni fa quindi benissimo scusi lei però è alto 1,60 sì dunque è minuta diciamo abbastanza minuta perché a 52 anni si è messa in testa lavora ancora nel mondo delle cam nel mondo di holly fans eccetera per quale motivo a 52 anni a 52 anni uno di solito non trova delle persone di 52 anni che noi ospitiamo spesso qui ragazzine ragazze di 18 20 che disperazione che spaccato di mondo terribile in realtà per il mio tipo di lavoro noi sulle nostre piattaforme c'è quella di 20 anni a quella più grande anche di me dipende anche il passato che ha avuto io ho iniziato questo lavoro per problemi economici qualche anno fa purtroppo nella mia vita dopo un divorzio mi sono trovata senza lavoro in qualche modo mi sono dovuta rinventare quindi ero un istruttore di fitness modella da lì è stato mi dispiace tanto lui è dispiaciuto mi dispiace lui è molto dispiaciuto sono dispiaciuto per lei perché capisco che è una storia tristissima assolutamente tristissima lui la considera una tristezza questa sua evoluzione anche lei dipende dai punti di vista ma lei se potesse può cambiare il mio mestiere no in questo momento no lei ha trasformato casa sua in una specie di grande fratello in cui succedono tutte cose no 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 un attimo non succede nulla grande fratello vede solo me io sono là in 24 ore fare il mio lavoro è un lusso perché ovviamente io posso guadagnare anche mentre dormo dubito che un altro lavoro me lo permette di fare perché lei guadagna mentre dorme perché le mie telecamere sono aperte 24 ore e perché uno dovrebbe pagare per vedere mentre lei dorme perché qualcuno davanti entra nel mio privé mentre sto facendo cam e gli piacciono i miei piedi io lavoro molto anche per i miei piedini eppure non faccio vedere il seno o il mio fondoschiena c'è gente che si collega e paga mentre lei dorme per esempio sì per vedere mentre dormo mentre sono a fare la doccia mentre sto lavorando in cama io ho un appartamento anche mentre va al cesso per esempio no allora ci sono ovviamente le telecamere sono impostate in una situazione dove comunque tipo il water per ipotesi è una cosa off limits cioè nel senso il water è off limits però dorme sì ora io dico la doccia ovviamente è aperta però scusi un attimo uno perché dovrebbe pagare ovviamente ovviamente nel senso che è bello vedere una donna che fa la doccia è bello vedere quando cucina è bello cosa fa durante le giornate a lei interesserebbe trombare con uno lei va a vita privata sessuale sì ha una vita privata sessuale a lei interesserebbe trombare con uno che ha la protesi oppure non le importerebbe se uno che ha la protesi oppure non gliene frega niente basta che si rizza diciamo beh non è nel sicuro io non parlo di solito nel mio privato ma no ma in generale non stiamo facendo una persona che ha una protesi le disturberebbe una persona che deve prendere la mano agire con la pompetta spingere io vedo pini tutti i giorni quindi cioè non mi fa la differenza ne vedo di tutti i colori quando lavoro quindi io mi faccio 7-8 ore di cam quindi beh assolutamente però io li vedo virtualmente un conto no ma nel privato nel privato uno che spinge la pompetta le darebbe fastidio uno che spinge scusa aspetta spingo la pompetta così posso trovare le darebbe fastidio beh magari me lo accenno me lo diche ah lo deve dire prima no nel senso sicuramente rimarrei sorpresa complimenti per questa cosa è normale basta spingere qui basta spingere qui italiani 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 Grazie a tutti